E ora un video gentilmente concesso dal canadese Daniel Pottier. Pazzesco! Quando pensi di non poter zoomare ulteriormente, ecco che puoi farlo ancora un po'. Daniel ha coperto una distanza di 385.000 chilometri fino alla superficie della Luna. Incredibile che lo abbia fatto con una semplice fotocamera. Com'è possibile ottenere un dettaglio così stellare? Questa fotocamera è dotata sia di zoom ottico che digitale per ingrandire un'immagine 166 volte. L'ingrandimento ottico è un processo fisico che consiste nel distanziare l'obiettivo da un sensore posto all'interno della fotocamera che registra l'immagine. Maggiore è la distanza tra i due, maggiore sarà l'ingrandimento ottico. Questo straordinario effetto parte dalla luce proiettata in linee erette che colpiscono l'obiettivo, il quale di fatto le diffonde a ventaglio verso il sensore della fotocamera. Quando l'obiettivo è molto vicino al sensore, la luce praticamente viene dispersa in misura minima e gran parte di essa lo colpisce. Quando l'obiettivo si allontana, la luce ha molto più spazio per diffondersi. Questo significa che il sensore intercetterà un frammento più piccolo dell'immagine, ma quella che catturerà sarà più ingrandita e dunque apparirà zoomata. Dopo aver potenziato le capacità ottiche della fotocamera, a Daniel è bastato operare un ultimo stratagemma. Lo zoom digitale è diverso da quello ottico e non ha nulla a che vedere con gli obiettivi. È semplicemente un effetto digitale a rendere l'immagine più grande. I singoli pixel vengono ripetuti per farla sembrare ingrandita, ma di fatto non catturano nessun ulteriore dettaglio. Le abilità fotografiche di Daniel sono roba dell'altro mondo!